San Lazzaro Lunense, Valdaveto 0 a 5, un'ottima prova dei ragazzi di Rubenpadi in un campo veramente difficile. Siamo andati bene, siamo andati come stiamo facendo già da tante domeniche, soprattutto in giorni di ritorno. Ero convinto che i ragazzi facevano una bella prestazione perché in settimana, nonostante che siamo fuori di tutti i giochi per l'autopromozione, ci stiamo allenando bene, ci sono dei ragazzi veramente eccezionali che dal lato dell'impegno non si può chiedere di più. Quindi sono orgoglioso di allenarli e stiamo onorando il campionato come ce l'avevamo ripromessi. Fuori dai giochi per la promozione, ma il lavoro svolto in questi mesi e i risultati di questi ultimi tempi stanno premiando scelte che si sono rivelate azzeccate. Sì, c'è un po' di rammarico di non essere lì e con la possibilità di fare i play, però va bene. Vuol dire che il campo ha detto quello, dobbiamo accettarlo, anche se è dura, perché credo che sul campo vanno dimostrato forse di meritarli. Però queste ultime partite ne sono a riprovo, però cerchiamo di finire bene il campionato, come ci siamo ripromessi con i giocatori, con la società, stiamo mantenendo quello che avevamo detto e quindi siamo alla fine contenti. La miscela giovani e giocatori un po' più navigati è stata ben calibrata ed è stata indovinata. Sì, ora abbiamo trovato anche l'assetto già da un po' e quindi bene, perché io ho 4-5 vecchietti che veramente sono un esempio per i giovani e c'è dei giovani, ci sono parecchi, li metto sempre spesso in formazione, bravi, stanno a sentire e quindi hanno la possibilità di crescere. Quest'anno secondo me sono cresciuti, quindi sono contento. Nella prossima gara è completamente casalinga, è una Valdaveto in crescendo, quindi? Sì, incontreremo Castenovese, che è una buonissima squadra, che ancora sta giocando la promozione e noi vogliamo chiudere bene la stagione in casa, in casa sicuramente, faremo la nostra partita e poi vinca il migliore. È mancata solo la fortuna? Sì, io credo di sì. Dicono che la fortuna e la sfortuna si compensa, io credo che quest'anno siamo in debito. L'anno scorso in qualche circostanza abbiamo avuto fortuna, un po' di fortuna. Quest'anno sinceramente io, non è brutto dirlo, ma sicuramente mi sento che tante volte non l'ho avuta, quel pizzico di fortuna che per fare i risultati ci vuole. Grazie.